Buon poveriggio, Sveva. Buon poveriggio. Sembri emozionata? No, no, no. Lo sei? Allora, diciamo chi è Sveva. Sveva Schiazzano, medaglia d'oro a Bacu per i giochi olimpici. Ma dimmi una cosa, quando ti sei accorta che era medaglia d'oro, che cosa hai provato? Reagivo, ho pianto tantissimo perché ero emozionatissima. Non me l'aspettavo perché già per me arrivare là è stata una grande soddisfazione. Per arrivare è stato dire sul cittadino più alto del podio, bellissimo. Specie quando poi ti mettono l'inno? Sì, appunto. È il momento che il cuore si scioglie. Qui si è accantata, era bellissimo. È stato bellissimo. Se mi posso permettere entro in scena 16, 40 e 17, avresti mai pensato prima di gareggiare? No, no, per nulla. Anche perché sono migliorata a 22 secondi e questo tempo mi ha anche permesso di una qualificazione ai mondiali juniori. Ci si terranno a singola pure. Grazie, grazie molto. Senti una cosa, ma io devo continuare, voglio sapere le altre cose di questa bella ragazza. Adesso che fai? Quali sono i tuoi prossimi programmi proprio da domani? Venerdì parto, partirò per, vado prima dei giorni a Roma, la faccio tutta per gli allenamenti con una nazionale di Funda e poi partirò per la Svizzera, per gli europei, per Funda. Insomma, vacanze, questa parola l'hai cancellata dal tuo vocabolario? Per il momento, per il momento bisogna darci dentro e continuare. E allora in bocca al lupo, Sveva, ha tante medaglie, tutte di oro. Grazie, grazie mille.